Al Parco di Arte Vivente di Torino è allestita la mostra SIC VOS, non VOBIS, per voi ma non vostra, collettiva dedicata all'acqua, il bene comune per eccellenza. La mostra curata da Claudio Cravero prende il nome da un aneddoto legato a Virgilio che avrebbe usato la frase SIC VOS, non VOBIS, in risposta a un plagio di una sua opera. La frase potrebbe non suonarvi nuova anche per il fatto che spesso la si trova incisa su molte fontane pubbliche del nostro paese, a sottolineare come l'acqua scorra per tutti ma non sia di proprietà di nessuno. I lavori esposti indagano l'acqua da un duplice punto di vista, narrativo e cognitivo. Le opere tra gli altri di Geraldine Pee e Roberto Verde, Mari Velardi e del collettivo indiano Frameworks dipanano il racconto di questo semplice e vitale elemento spesso al centro di conflitti e tensioni tipiche del potere e della volontà di controllo. Una visita alla mostra può essere anche l'occasione per ammirare This is the place where I feel at home, installazione di Botto e Bruno appositamente studiata per il Parco di artevivente che riflette sul costante cambiamento dei luoghi al fine di preservarne la memoria e la percezione. La mostra Sikvos non Vobis è visitabile in via Giordano Bruno 31 fino al 4 maggio, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 12 alle 19. Biglietti d'ingresso a 4 euro, 3 euro per i biglietti ridotti, i bambini fino a 10 anni hanno diritto all'ingresso gratuito. Grazie a tutti!